Cosa conterrà lo starter di Big Mom? Quale sarà la dinamica che muoverà questo nuovo leader rappresentante del lato giallo e converrà acquistarlo? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Con l'arrivo di OP03 è giunto sui tavoli da gioco anche un nuovo starter, il settimo, che come per Pillars ha dato il benvenuto al nuovo colore apparso nel TCG di One Piece, il giallo. Big Mom con la sua ciurma infatti tutta a caramelle e giostre offrirà la sua maestosa sdolcinatezza al servizio di tutti gli aspiranti re dei pirati, proiettandovi diretti verso una nuova meccanica che in questo terzo atto vedrà coinvolte anche le pile delle vite, allargando ulteriormente l'esperienza di gioco anche al di fuori del campo di battaglia. In questo video quindi scopriremo quali sono stati i cambiamenti apportati al prodotto in questione, quali saranno le carte che formeranno il deck capitanato dall'imperatrice e soprattutto come si comporterà durante le numerose fasi di un match. Prima di iniziare volevo invitarvi ad iscrivervi. Per voi è solamente un click, per il canale invece è molto importante, in questo modo crescendo si riusciranno a portare contenuti sempre più interessanti e ricercati. In più non dimenticatevi di seguirmi anche su Instagram e la pagina Facebook, dove pubblicherò aggiornamenti riguardanti le varie uscite dei video e molto altro ancora. Troverete i link in descrizione, grazie ancora in anticipo. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme se converrà acquistare Big Man Pirates, il settimo starter del TCG di One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. La scatola dello starter si presenterà simile a tutte le precedenti, con l'unica eccezione fatta per la lista sulla parte dorsale del prodotto, che a differenza dei deck dal primo al sesto dove era presente, qui non verrà riportata. Ci saranno infatti unicamente una serie di info che comprenderanno il contenuto, descritto in modo grossolano dell'articolo, e diverse note che ai fini del gioco importeranno relativamente poco. Ma non vi preoccupate, in descrizione vi lascerò l'intero deck specificato carta per carta, così che potrete attraverso il sito dev, sempre in descrizione, visionare l'articolo nel dettaglio prima di procedere ad un eventuale acquisto. Ma non sarà l'unica differenza che contraddistinguerà lo 07 dagli altri suoi fratelli e sorelle, dato che anche il contenuto inteso come packaging varierà drasticamente. Una volta aperto lo starter, troverete il solito libretto delle regole con plancia di gioco annesso, il deck protetto da una confezione di plastica con linguetta adesiva incastonato all'interno di un alloggio completamente realizzato anche qui in plastica, a differenza delle versioni precedenti, dove il mazzo veniva compattato da una fascia polimerica incluso in un compartimento realizzato in cartone spesso. Scelta piuttosto particolare, ma che a tratti posso comprendere, dato che molte volte ho rischiato personalmente di danneggiare delle carte che si sono letteralmente incastrate nella fessura bassa dell'alloggio, ma a parte quello di sicuro preferisco la vecchia versione piuttosto che quella nuova. Aprendo invece la bustina che conterrà il deck, vi ritroverete davanti un mazzo che farà della nuova meccanica del giallo un'arma fondamentale. Infatti con questa tonalità potrete interagire in modo più diretto con entrambe le pile delle vite, gestendo la posizione di ogni carta contenuta in questa zona del campo. Attraverso i vari effetti come quello del leader, la sua controparte character, dei katakuri, di snack, dai fuku, mondor e gli event con stage a seguito, avrete il pieno controllo di ogni elemento che andrete a visionare ogni volta che prenderete danno diretto. Questo deck quindi sarà rivolto a tutti i giocatori control che vorranno manovrare minuziosamente ogni dinamica dei match che affronteranno. Per quanto riguarda invece le carte incluse nello starter, ci saranno personaggi fondamentali che compariranno abbastanza spesso nelle liste di alcuni leader presenti in OP03, come katakuri per l'appunto, dai fuku, brule, flampe e la stessa lin lin, anche in quattro copie. Quindi il consiglio che do sempre a chi sta per salpare verso il grande blu è di acquistare 207, così da avere il playset completo di ogni risorsa da includere senza pensieri all'interno del proprio deck. Come sempre in descrizione vi lascerò anche una lista creata unendo due starter, così che potrete già da subito iniziare a solcare i mari alla volta della rotta maggiore. Con il tempo e l'esperienza, anche supportati da altri pirati più esperti, potrete affinare il vostro deck aspirando assieme a Big Mom all'ambito titolo di re dei pirati, o in questo caso nello specifico regina. Ho già visto in azione questo mazzo e devo dirvi che in un local svoltosi dai signori di Loop Game, troverete il link in descrizione, dove potrete richiedere la copia dell'articolo trattato in questo contenuto, si è portato a casa la vittoria con un secco 5-0. Praticamente non ha lasciato scampo a nessuno dei rivali che ha incontrato lungo il suo cammino. Sono certo quindi che a forza di testare le meccaniche che muovono il giallo, potrete imporvi sul meta che vedrà una moltitudine di giocatori separarvi dall'ottenimento dello One Piece. E voi vestirete i panni dell'imperatrice? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.